L'armata di Eggman è arrivata! È in città! Dobbiamo assolutamente portare la gente via di qui! A chi possiamo mandare? Sonic e Silver si stanno riprendendo. Stiamo affrontando i nemici a Seaside Hill. Tutti devono aiutare. Qui è l'unità 8. Siamo bloccati dal fuoco pesante nemico. Accidenti, mi sa che non ho scelta. Ok Spina, ho un compito difficile per te. Mi serve che torni in città a salvare quei civili. Devo sapere lo stato attuale di chi non è riuscito a finire in tempo. Qui Espio, siamo in lotta con i nemici. Non possiamo cercare i civili al momento. Il conflitto è veloce, non possiamo soccorrere! Sei la nostra unica speranza, Spina. La salvezza di me è pure. Sono roba di te, Tec. Mi sta producendo massa ora. Oh oh, ti sta mettendo male. Credo sia un altro per la strada. Ma non possiamo ignorare. Te la puoi fare, vediamo Spina. Grazie a tutti. Ottimo lavoro. Perfette abilità. Wow, ora sì che ho capito che comanda. Bene, ora come faccio a fare di meglio? Abbiamo sfondato le linee nemiche. Salvataggio in corso. Abbiamo stabilito una via di fuga. C'è un'uscita sicura. Grazie alla Spina le cose si stanno mettendo bene. Continuiamo così, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aggiornamento dal cruce. I delico è in fuga. Missione completata. Ben fatto, ragazzi. We can't let evil wind take down the mouth. We can't let evil wind take down the mouth. We can't let evil wind take down the mouth. We can't let evil wind take down the mouth. We can't let evil wind take down the mouth. We can't let evil wind take down the mouth. Veramente notevole, ma abbiamo ancora molto da fare. We can't let evil wind take down the mouth. Eggman, di qualunque cosa si tratti. Eggman ha detto che Sonic è a Mystic Jungle. Secondo quanto ho sentito, Sonic dovrebbe essere qui. È strano chiederti di andare a cercare un Sonic, ma contiamo su di te. E' strano chiederti di andare a cercare un Sonic, ma contiamo su di te. Wow, sembra divertente, ma non è il momento di giocare. Dobbiamo fregarci. No, sembra divertente. No, sembra divertente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.